La salita al Monte Epomeo si fa sempre più dura. La voglia di tornare indietro è molto forte, il caldo, la fatica. Ma noi non molliamo. Amici di presso Napoli, siete mai stati sul Monte Epomeo a Ischia? Per chi non conoscesse questa fantastica esperienza, vi mostro io velocemente di cosa si tratta. Il Monte Epomeo, antico vulcano spento, è il punto più alto dell'isola. Fino ad un certo punto si arriva anche in auto per parcheggiarla nella sosta a pagamento del ristorante del posto. Poi è obbligatorio continuare a piedi e lì inizia la parte dura. Ma se ami l'avventura, allora non puoi perderti questa esperienza. Salendo, ad un certo punto si arriva anche in alcuni spazi dove è possibile sedersi e riposare ed infine si arriva verso la cima del monte dove è possibile apprezzare praticamente tutta l'isola. Dopo è stato obbligatorio per noi una sosta panino da dolce e salato.